L'emergenza occupazionale, gli ultimi adempimenti connessi al pagamento della mobilità in deroga per ben 2 milioni e 300 mila euro e il Jobs Act sono stati i temi discussi questa mattina dalla Commissione Tripartita Regionale. Le parti sociali e politiche hanno affrontato le questioni più calde del mondo occupazionale, a partire dallo sblocco della Cassa in deroga. Abbiamo assunto un provvedimento che autorizza lo sblocco di 2 milioni e 300 mila euro in favore di mille lavoratori per la mobilità in deroga del 2014. Saranno pagati per il bimestre marzo e aprile 2014. Altri sono i lavoratori in attesa della Cassa in deroga, con ultimi adempimenti che potrebbero velocizzare questo sblocco, tanto atteso che sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie. Secondo un provvedimento adottato, c'è stata una informativa riferita alla ricostituzione delle due commissioni per la concessione della Cassa integrazione ordinaria per il settore dell'edilizia e per il settore manifatturiero che derivava dal riordino del Ministero del Lavoro. Non esiste più la direzione regionale del Molise, c'è quella interregionale per tutti i sud da Napoli. Dopo una serie di azioni siamo riusciti a superare ogni ostacolo. Sono state ricostituite le due commissioni e la prossima settimana si riuniranno per dare risposta alle tante imprese, a cominciare dalla Fiat, le aziende di Ila, lo zuccherificio, quindi un altro elemento di tutela. Ho anche relazionato sull'incontro avuto ieri a Roma con la direzione del Ministero del Lavoro per sbloccare la Cassa integrazione straordinaria per le costruzioni Falcione e per le esattorie per i mesi di luglio e agosto, mentre Falcione è da giugno del 2014 a giugno 2015 per i lavoratori. Un incontro a 360 gradi per affrontare quanto accade nel mondo lavorativo molisano con le parti sociali che hanno svolto un confronto serrato e democratico.